in questo video concluderemo la panoramica sugli hash aperta nella lezione precedente buona visione nella lezione precedente abbiamo visto come creare un hash e come inserire le coppie key value ma il metodo che abbiamo utilizzato non è l'unico metodo valido è infatti possibile utilizzare la big arrow che è questa cosa qua che infatti rimanda molto ad una freccia per creare le coppie anziché utilizzare la virgola separatrice utilizzando la big arrow otteniamo una formattazione dei contenuti ancora più chiara poiché come potete vedere le key non vanno obbligatoriamente inserite tra apici e la big arrow rende molto meglio l'idea di coppia almeno a colpo d'occhio rispetto alla virgola separatrice e seguiamo lo script e come previsto abbiamo in output la stringa colore mela rossa poiché rossa è la value di mela un altro metodo per definire e utilizzare un hash è quello di sostituire il simbolo percentuale con lo specificatore dollaro e trasformare le parentesi tonde in graffe mentre il metodo di inserimento delle coppie che è value resta invariato se si decide di utilizzare questo metodo per creare un hash quando poi si va a pescare valori bisogna utilizzare questa forma qua ovvero nome dell'hash freccia e poi tra parentesi graffe la key ma cosa vuol dire precisamente questa freccia qua questa semplice all'apparenza banale freccia è più interessante di quanto possiate immaginare infatti in contesto scalare hash ed array funge da operatore di dereferenziazione quando abbiamo creato il nostro hash frutta utilizzando quel metodo non abbiamo salvato all'interno della variabile frutta l'hash bensì il suo reference un reference è una semplice variabile scalare con la particolarità di contenere al suo interno l'indirizzo di memoria dove è salvato un altro elemento che può essere un hash un array un'altra variabile scalare e via discorrendo quindi cosa abbiamo fatto quando abbiamo creato l'hash frutta abbiamo sì creato fisicamente l'hash ma abbiamo salvato all'interno della variabile frutta e il suo reference anziché l'hash stesso ma cosa ce ne facciamo quindi di questo reference bene un reference può essere utilizzato per risalire alla locazione di memoria indicata per manipolarne ad esempio il contenuto questa operazione prende il nome di dereferenziazione ed è proprio questo che fa l'operatore freccia quindi dereferenziando la variabile frutta si riesce ad accedere all'hash salvato in quel determinato indirizzo di memoria e una volta risaliti all'hash possiamo manipolarlo come abbiamo sempre fatto per concludere dovete inoltre sapere che questo meccanismo di dereferenziazione è stato ereditato direttamente dal c che sarebbe poi il linguaggio di implementazione dell'interprete torniamo all'esempio dunque abbiamo creato un hash contenenti le coppie mela rossa limone giallo e mandarino arancione e abbiamo salvato il suo reference all'interno della variabile frutta dopodiché si stampa il contenuto di frutta che contiene il reference all'hash appena creato e successivamente si esegue la dereferenziazione su frutta andando a pescare la value associata alla che è mela vediamo l'output e la prima stampa mostra il contenuto della variabile frutta ovvero il reference all'hash e il relativo indirizzo di memoria mentre la seconda stampa ci mostra che la dereferenziazione su frutta è andata a buon fine poiché abbiamo recuperato con successo la value rossa a questo punto la domanda che sorge spontanea è perché mai utilizzare i reference i reference sono particolarmente utili quando dobbiamo creare delle strutture dati complesse e inoltre in certi casi utilizzare i reference può incrementare notevolmente le performance del nostro programma ma tratterò l'argomento nel prossimo video una volta fatte le espressioni regolari boh ora vedo ma passiamo adesso ai metodi di iterazione sugli hash il più comune lo abbiamo già visto nel video precedente ma ve lo ripropongo ugualmente è il metodo che vede utilizzare un ciclo for each in combinazione con la funzione case come come abbiamo visto la funzione case restituisce un array contenente tutte le key per l'appunto contenute nell'hash passato come argomento quindi ad ogni interazione sull'array di key recuperate dall'hash frutta si assegna alla variabile frutto il valore corrente e si stampa in output la coppia key value ed eccole qua un altro metodo di iterazione su hash consiste nell'utilizzo di un ciclo while in combinazione con la funzione each la funzione each restituisce ad ogni iterazione una coppia key value che viene assegnata rispettivamente alle variabili frutto e colore quindi ad ogni iterazione sull'ash frutta viene estratta una coppia e i singoli elementi della coppia assegnati alle variabili frutto e colore che vengono successivamente stampate quando l'assegnazione delle coppie alle variabili non va a buon fine quindi non vi sono più coppie all'interno dell'ash frutta l'operazione restituisce false e si esce dal ciclo while e seguiamo ed eccole qua bene direi di aver spulciato abbastanza l'argomento hash se avete qualche domanda vi invito come al solito a lasciare un commento a risentirci e quindi